oggi vorrei proporvi la lettura del libro scritto da clara sanchez il primo respiro dopo la pioggia edizioni garzanti clara sanchez è un'autrice molto nota e molto amata in spagna e non solo ha ricevuto ben tre premi letterari e nel 2023 quindi di recente ha avuto la più alta onorificenza nel suo paese ossia è stata ammessa alla reale accademia espanola in questo libro affronta un tema non nuovissimo nel senso che pone un interrogativo che cosa capita nella vita di una persona quando eventi esterni portano a fare una riflessione su quello che il bilancio riguardo la propria esistenza è una cosa che capita a tutti nel caso della protagonista del romanzo lucia l'ictus della madre fa sì che lucia inizi a rivalutare la propria esistenza attraverso anche l'esistenza delle persone per lei più significativi ossia i genitori osservare l'esistenza della madre che considera una donna in alcuni momenti infelice che conduce e ha condotto una vita piatta fa sì che si chieda se effettivamente tutte le sue scelte siano anche giuste o se in fondo non è opportuno fare qualche cambiamento tra l'altro lucia viene a doversi confrontare con la fine del suo matrimonio mario il giornalista che ha sempre amato alla fine quello che è importante in questo libro è il modo di approcciarsi a questo tipo di bilancio siamo abituati nella maggioranza dei casi a trovarci a confrontarci con protagonisti che alla fine compiono azioni esaltanti azioni molto forti che inducono dei veri e propri cambiamenti nella propria esistenza e quindi attuano quella che viene definita la rinascita nello specifico lucia alla forza alla fine si rende conto che forse ha valutato l'esistenza dei propri genitori della propria madre in modo troppo severo alla fine sua madre non è stata infelice alla fine i suoi genitori hanno condotto un'esistenza considerando la realtà come un evento da accettare e quindi da affrontare e forse quella è la vera dritta che l'autrice intende trasmettere con la lettura di questo libro la vita pone gli individui di fronte a situazioni molto spesso difficili e anche di difficile accettazione e noi siamo duri abbiamo sempre questa concezione di dover cambiare cambiare sradicando tutto quello che è stato alla fine forse lucia non fa altro che dire a tutti i lettori a noi tutti che la vita va accettata la realtà va accettata e bisogna guardare avanti perché in fondo diversamente da come spesso ci viene indicato di fare non bisogna sempre vivere nel presente ma forse bisogna anche tener conto di quello che è stato il passato non denigrandolo o distruggendolo considerandolo completamente negativo perché in fondo il passato che determina il nostro presente ed è anche lo sguardo che noi posiamo sul futuro a determinare quello che poi è il nostro vivere quindi vi consiglio la lettura del libro di clara sanchez il primo respiro dopo la pioggia edizioni grazanti alla prossima